Musica Eeeh blocci per i miei benvenuti in questo nuovo video come sempre io sono Tecnoide e ragazzi oggi vi voglio portare una ranked importantissima ovvero l'ultima ranked nella quale mi sono classificato che ho fatto ieri live perciò ragazzi vi sto portando questo video così tutti quelli che non hanno voglia magari di vedersi la live di 4 ore di ieri vedranno l'ultima partita in cui mi sono classificato Ragazzi vi dico già che è una partita spettacolare dove ho fatto il devasto guardatela fino alla fine e mi raccomando scrivetemi anche voi qui sotto nei commenti con che grado vi siete classificati Detto ciò buona visione Oh ragazzi questi video bordo sono forti Con quel cioccolatino Oh Oh Super crash di massa When I see you again E' un vittore di più rischio Via 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 veloce E' spettato E' un po' raga qua Ah devo dire che abbiamo sbagliato eh Mi randava presto Oh dai è mustà Riavvia in fretta Eeeh mi hai si è chiuso il gioco Tec Eh riavvia riavvia Eh no no mi sei proprio chiuso Cioè ci siamo avuto riavviato Ti è frizzato Eh chiudi l'ariavvino Mi sa che asce sta Regà stanno aprendo Porca miseria Eh purtroppo con mai sto Voi coprite tutto davanti sto io a coprire il dietro Andrò tec e friend coprite solo voi là Ci penso che volete Asce qua La struzione è da me Il nemico ha individuato il contenitore Ah eccola Per prendere il contenitore Bravissimo Ah ragazzi mi ho pushato scusate Mi sono da pagina No no beh girassi mi sto in server Che stanno sfondando Piano Noo brutto brutto Dai però Non è possibile vero Ho preso Eh madre smirato Dai dai Hai avuto regà qua Stanno entrando un botto Oh che sto bordello Eh ma senza mira raga Non hai fatto Bravo te Ce n'è un altro un po' più a sinistra Ma non affacciarti Perché c'è un precipito Stavolto brutto Che ci faceva con i metodi Stavolto brutto Non lo so Non lo so Stavolto brutto Stavolto dönemco Stavolto brutto Stavolto brutto Stavolto brutto Intervenite all'istante. Entra, entra, entra. Albreccio. No, no, cosa fai? Cosa fai? Albreccio, squattati. Ah, deluia. Tirà a portata main. Destra, destra, tac. Ma muori il merda. Da fu? Allora, ricarica. È fuori, fuori, non ammettere. È contesa, è contesa, è contesa. È contesa? È inferimento, è inferimento. È inferimento. Ah, la fe... Uuuuh! Ah, Godo! Godo, tu come i Pokémon! Guarda sempre con te, la tua sfera Poké. Come i Pokémon! Uuuuh! 30 minuti. Ah, attenzione! È dicono Tecnoid Cariato! Suca! Suca! Nein, 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 nein! Suca! Applausi. Applausi. Oh, raga, la cosa bella è che all'improvviso 1v1 ho sentito così. Ah, eh. G per te. Era quello inferimento. G per te, l'ho capito. G per te, l'ho capito. Regà, ma Fultimpoor ha fatto? Sì, dai, sì. Guarda lì. Fultimpoor in rank. Tec, tec, meno male che ti ho detto, tira la bombetta. Sì, è vero. Contenitore di... Crassazio. Vendit va in giro. Ragazzi, pronate bene, eh, che sto rando ci ha andato un po' a pennello. Vabbè, ero anche crassato. Bravo Tec. Complimenti. Oh, maestro ha messo da cam fuori. Maestro ha messo da cam fuori. Maestro ha messo da cam fuori. Buonanotte, Frank. Ho aperto tutti e due mira, attenzione. Guarda Valkyria, maestro, montagne e main. Guarda qua, mi portano due. La cam di maestro ha detto foro. Mi porta via anche... Ah, ma è qua. Dove ti serve, Brando? Vuoi vedere? Fuori dove si brinda. È qua. Qua, è qua. Qui, qui, qui. Oh, ma non l'hai fatta, eh? No, ma sei veramente un... Oh, ma guarda che non l'hai fatta. Oh, Brando, copri, copri, copri. Ecco che c'è quella cam schifosa. C'è il lesion qui, Frank. C'è il lesion qui in Archie. Allora. Chiama, chiama, chiama. Chiama subito. Allora, maestro ha bloccato qua. Un amico qualcuno. Mira qua. E lesion esattamente ha morto. Mira me la faccio io. Un è dietro il bancone. Mamma mia, regà. Spettacolo. È anche il tempo di arrivare. È il montagne main, tech. È il montagne main. GG. Gioga dietro questa mira. Sì, sì, ho capito. Allora, aspetta che ne metto una qui. No, perché avete rotto questo? No. 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 Perché se magari entra uno scudo, se magari entra uno scudo, se magari entra uno scudo, si lo porta da me e tu te lo fai. Ok, vai. Ho capito. Attiralo, attiralo. Nella nostra trappola del montagne. Guarda, Master, è come tutto bello sdraiato. È tipo ingrippato, che brutto. Maestro main. È tutto rotto lì in mezzo, lui. Vabbè, tanto io i piedi nella realtà ne ho anche di uso. Ce l'ho dietro di me. Perché sei un ciccione main. Sta tipo qua, eh. Tu rotoli. Io rotolo. Perché lui rotola. Ecco. No. GG. Ecco. Da dove? Da dove? Per mezz'ora che... Eccolo, 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 eccolo. Sta arrivando. Mamma mia. È stato coperto dal fu... Regani, non vedo assolutamente... Oh, sta rompendo. Eccolo, sta per entrare. È il blitz. È il blitz. Non è il... Eh sì, ho visto, ho visto. Ma è il blitz. Perché le vanno a leggere. Sì, sì. È proprio il blitz. Termine tu vuole sfondare, ma... Ho trovato il maestro main e non sfonda più. Eccolo, eccolo qui. Allora, io copro sto qua qui che sta... Master, Master, stanno per entrare. Finestra. Master, sveglia. No, no, ma tanto non visitieranno mai. Perché tu sto guardando con la mano. Oddio, dai, c'è, 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 c'è. Ok, vai. Taccati tu, attaccati tu. Bravo. 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 No, no. Ancora, regà. Eh, vabbè. Difensori eliminati. No, ma... Iena non proteggevi tutta quella fine da quel vino. Eh, ho detto, una fatta di lingua. L'ho detto, lo detto. No, però questo è iningoiato cosa dire. Io ignaro ero lì che dicevo a te. Eh, anch'io dalla porta. Andando tutto tranquillo. Eh, dai, calcolo stesso. Hanno fatto una cosa digna di rimbo. Se avete visto, hanno fatto tutto sincronizzato, sfondato sotto termite. Ma è stato attaccato a quel tutto velocemente. Ho stata fortuna coordinata. Ho questo stato di bravito. Balalalala. Balalalala, come Baymax. Dovete trovare... Chissà se ne fanno un altro di film. Eh, io... Eh, io vorrei vedere un altro Big Hero 6. È stato strabello come film. Eh, ma... Lo sai... Eh, ma lo sai quale è il problema? Un film quando è troppo bello si preoccupa di fare il secondo. Nemo... Nemo ci hanno messo dieci anni per fare un altro, come anche Gli Incredibili 2 e Toy Story. Cioè, devi dare un battente. Mamma mia. Master di Stay Mane. Sì, sì, sì. Eh, io impazzisco questa cosa. Shrek, hanno vociferato che vogliono fare Shrek 5. Eh, no. Non lo fanno più. Ma sai da quanto tempo è che non lo fanno? Raga, c'è il frizzo sotto di questo. Mosti! Ehi! Ehi! Grande! Mosti! Rompatemi i bandit. Eh, vado a chiederlo io. Mosti! Entriamo, prendiamoci il server. Cioè, lei si ha una sport. Oh! Oh! Andiamo, andiamo, andiamo! Qua, è qua, è qua, è qua! Scusami, scusami. Spaccami i bandit. Eindri, spaccami i bandit. Eccolo qua, eccolo qua, aspetta. Neutralizzate la minaccia. Eccolo qui, no. Eccolo qua. Dai! Nooo! Ma guarda, è uscito qua! Che palle però, che palle! No, no, no! Non sparare quello, non sparare quello! È alibi, eh! È il modrono, è il modrono. Dai! Appoggiammi il drone lì che te lo controllo, Brando! Mettilo! Un minuto! Mannaggia, non so che fare! Eccolo, eccolo! Sta sdraiato, Brando! Dai, hai visto, eh! Un minuto è dietro al muretto e alibi nello stanzino. Esatto, esatto, assolutamente! È sdraiata, Frank! È sdraiata! È sdraiata! È sdraiata! E ora si è alzata e si è spostata, eh! Brando, tu hai quello, eh! Tutti e tre! Bravo, Brando! Entra, Brando! Eccola, eccola! Vai, Brando! Bella! GG, regà! Bravi, bravi! Bravi, mamma mia! Abbiamo fatto i quattro! Abbiamo fatto i quattro, ragazzi, con il suo IQ main! Siamo in tendenza, GG! Io... Io vorrei... Io vorrei ricordare... Siamo noni agendenti! Noni, mamma mia! Però dovete darmi una mano sopra? Perché non tecca... Brando, vieni tu! Vieni tu, Brando! C'è il Twitch! Vai in ufficio! Vai in ufficio! Regà! Gente qua sopra! Mi attaccano da server! Beh, security relax! Security relax! Ma è uno scudo! Qua? Me lo faccio io, Musti! Musti, aiuto! Ufficio, aiuto! Ufficio, aiuto! Ufficio, aiuto! Eh, dai! Son flashato! Quella è la testa, eh! Ibana ha uno di vita! Mamma mia, Iena! Presa! Qua mi sai! Scusatemi, ma non sono riuscito a tenere! Scusatemi! Oh, ma dove? Ah, ma è sopra! In corridoio! Scalessi! No! Mamma mia! Come m'ha fatto! Master sempre lì! Sta scendendo l'altro! Master! Master sempre lì! Master! No, vai giù! Non pensavo stava là! Zitti, zitti! E qui, Musta, uno! Entra da dietro! Uuuuh! Dai, Mokra! Musta, c'è qua! Spot! Toothermite! Te lo sfoto! Non lo sfotate più! Non piccare! Sai, c'è la contesa in casa! Se viene dalla porta di dietro di te te lo diciamo noi! Ok, ok, perfetto! Respira, respira! Mi stai dronando? No! No, 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 no! No, no, no! Mi sono dalla porta di dietro! Mi sono dalla porta di destra! Mi sono dalla destra! Sì, sì, sì! Il tempo scade tra dieci secondi! Sì, sì, sì! Aspetta! Sì! No, no, dietro! No, dietro! Centrale! Centro, centro, centro! Mamma mia! GG Bomber! Mamma mia 9 musta 9 kill musta Mamma mia GG bomber Mamma mia bravissimo Emozioni Emozioni forti Prepariamoci perché tra poco si vedrà il mio grado Vediamo Vediamo attenzione Platino 3 bomber Platino 3 Dai Platino 3 con 3420 punti Ho fatto il full team e poi ho detto Va regà io ho già dato Basta Supporto morale